Sta per arrivare un trailer che non è un trailer Ehi nonno, ti vedo un po' giù Io lo sapevo che prima o poi doveva succedere Tratto da una storia quasi vera E come se lo vedo arrivare? La morte! Quando meno te lo aspetti Dottore, mi dica la verità, ma ne è proprio sicuro? Ormai il dato è tratto, come disse Cunar Mi sento a pezzi, non ne posso più mangiare Ma cosa? Lo strutto Che? Quando il cornetto dice basta arriva l'uomo distrutto Con il nonno Il nipote Il nipote Sì, guardi, mi interessa un'eredità Mi porterebbe a casa cento cornetti? Mi raccomando lo strutto E con lei che tutte le mattine per dispetto Fa trovare un cornetto sul comodino La nonna Migliore attore e semi-protagonista E lui Da un'idea di... E chi può dirlo? Regia del regista Grazie al cazzo Un uomo distrutto Prossimamente nelle peggiori cine e pasticcerie Semino, come dicele Tornare C'è un uomo distrutto